Amici buongiorno a tutti io sono Michele e benvenuti su mcarp sono trascorsi pochi giorni dal Carpitali e quindi con voi voglio fare alcune considerazioni vedere alcune novità e trarre le conclusioni su questa manifestazione ma prima sigla Amici come di consueto oggi è venerdì e vi voglio parlare della manifestazione che si è da poco conclusa cioè il Carpitali, Carpitali 2023, due anni di fermo dovuto naturalmente alla pandemia c'è stato un ritorno importante una buona risposta si parla di 9.000 spettatori a conclusione di questi due giorni di festa di ritrovo c'era bisogno di ritrovarsi, di poter parlare insieme tra pescatori io sono stato contentissimo, felicissimo di aver partecipato a questa Kermess perché ho avuto la possibilità di incontrare di persona, tanti appassionati di poter scambiare delle chiacchiere, delle opinioni e di poter vedere anche per la prima volta così tante donne appassionate di car fishing e soprattutto tantissimi bambini io ho avuto la fortuna e l'opportunità di essere ospitato nello stand Boy Lays e lì Boy Lays è un marchio che ormai avrete conosciuto attraverso me e attraverso l'online Instagram, Facebook che sono i loro sistemi di propaganda tra virgolette quindi per farsi conoscere e è stato bellissimo vedere questi giovani appassionati, questi bambini c'erano bambini di 10, 12, 13 anni, ragazzini che annusavano, provavano le Boy Lays, le sbriciolavano c'era un bambino che ha preso tutte le pop-up di ogni colore e se le ha messe in tasca quindi voglio vedere poi quando è arrivata a casa la mamma cosa gli può aver detto la puzza che avrà avuto nelle tasche però è stato simpaticissimo e bellissimo ho incontrato tantissimi di voi, ci siamo fatti delle foto, ci siamo conosciuti, ci siamo abbracciati cosa che non accadeva da una vita proprio dovuto a questa pandemia e quindi è stato è stato bello, bello e anche emozionante per quanto riguarda la manifestazione purtroppo si parlava, si parla di una manifestazione che c'è da più di 20 anni ma dopo due anni di fermo è da considerarsi l'anno zero quindi l'anno della rinascita del Carpitali questo ha indotto molte aziende, sia aziende sia negozi a non presentarsi o comunque ad andarci molto cauti nel presentarsi l'esempio tipico è di Frittain Bolsena che era presente con circa 400 metri quadri di esposizione ma con pochi articoli nel senso si è portata dietro non le quantità degli altri anni perché questo? Perché comunque il trasporto, lo spostare, gli spostamenti e tutto hanno dei costi che noi possiamo solo neanche immaginarlo e quindi molti ci sono andati cauti ritrovandosi già sabato sera senza più articoli da vendere altre aziende hanno investito tantissimo tipo Tempo Libro Shop hanno preso praticamente mezzo capannone solo loro e aziende leader invece, quindi grandi marchi purtroppo non si sono presentati se non delegando questi negozi specializzati per farsi pubblicità, farsi vedere e vendita questo ha portato alcune delusioni alcuni visitatori sono rimasti delusi c'è anche da dire che l'affluenza è stata importante perché si parla nelle due giornate di 9.000 visitatori che non è assolutamente poco naturalmente non abbiamo gli stessi numeri non ci sono stati gli stessi numeri degli anni precedenti degli anni prima della pandemia ma è comunque stata una bellissima risposta da parte degli appassionati quindi grandi marchi c'è da capirlo anche in questo caso io non giustifico nessuno anzi mi sarebbe piaciuto vedere tutti i più grandi marchi con i loro stand dedicati che sarebbe stato veramente bellissimo invece li abbiamo trovati all'interno dei vari negozi con la presentazione comunque dei loro prodotti dei loro cavalli di battaglia detto questo il Carpitaly è stato un grande ritorno un bellissimo evento hanno già stabilito le date del prossimo anno che mi sembra sia il 10-11 febbraio 2024 quindi si riparte e non vediamo l'ora quindi di rivederlo il prossimo anno intanto nello stand boilays hanno presentato alcune novità alcune novità che ho portato qui con me oggi ve le faccio vedere le troverete prossimamente ma questione proprio di giorni anche sul sito sul loro sito pronte per essere acquistate io intanto vi metto il link in descrizione ve lo faccio passare anche qui sotto dove c'è il link diretto con già il codice sconto in maniera tale che nel carrello poi avrete un 10% di sconto sull'acquisto totale per tutto quello che acquisterete su questo sito e le novità più importanti ve le faccio vedere qua ci sono alcune chicchine interessanti che poi naturalmente come sempre proverò, testerò vedrò come reagiscono con le mie acque perché naturalmente lo ribadisco, continuo a dirlo ogni acqua è diversa ogni colore, ogni aroma ha un effetto diverso a seconda dove lo andiamo ad utilizzare alla temperatura, al colore, alla stagione non c'è l'esca miracolosa ci sono solo esche più buone, meno buone queste esche qui posso dirvi che il vantaggio intanto sono esche italiane so dove le producono conosco chi le produce so che cosa ci mettono dentro e quello per me è già come farsele in casa fondamentalmente addirittura e non lo sapevo l'ho scoperto proprio al Carpitali mi dicevano i ragazzi che volendo con il vostro mix vi possono creare la boilers che volete e questo è una gran storia chissà chissà mi sono venute delle idee delle idee interessanti per una mia esca però non ancora ancora non ce l'ho qua ancora ce l'ho qua prima di dirlo in giro ce l'ho qua poi vedremo ma intanto vi faccio vedere alcune novità che sono che sono emesse dal dal Carpitali è nato un nuovo method che eccolo qua quindi oltre al fruttato e al pesce è arrivato anche il method al krill e questo sicuramente è un method molto interessante molto molto interessante al krill qui si parla adesso voglio fare una cosa molto veloce però farina di krill farina è un method a base di krill antarctic farina di krill farina di mais farina ttx plasma soia semola appetizzante in polvere e dolcificante valori nutrizionali abbiamo la proteina grezza al 31% quindi valori molto molto alti io lo accompagnerei sempre con questo il bombase che avete già avuto modo di vederlo la XXX che crea proprio una bomba attrattiva questo ripeto va benissimo nel method oppure io lo indico sempre in tiger e mais questa però non è novità ma ce l'ho me lo sono provato dietro perché lo voglio provare col method faccio vedere sia nella versione top sia nella versione fast e che cosa abbiamo in questo colore particolare ecco qua il mulberry lo appoggio perché peso confezione fast e versione top eccola qua la boost boil queste vengono definite con adesso poi lo devo ancora studiare bene questo questo tipo di boilers però viene definita plasma boost boilers mulberry 20 mm un chilo robin red qua anche qui abbiamo una proteina grezza al 47% farina di mais farina ttx soia farina di semola plasma farina di pesce robin red appetizzante in polvere dolcificante e anche uova io ho avuto modo di provare di questa linea qui le pop up queste me le hanno mandate ad agosto e quando si apre il vasettino così arriva un profumo che sembrano caramelle ti viene voglia di mangiarle assolutamente è una roba devastante e effettivamente mi hanno salvato alcune situazioni però non potevo parlarvene prima perché non sapevo mi hanno detto guardate le ho mandate da provarle al tempo ma non mi hanno detto che sarebbero state presentate quando come è allora io le ho sempre tenute nella mia cassettina nel mio recipientino e e quando me la trovavo mi trovavo una situazione un po' così così questa qui la differenza me l'ha fatta altra linea sempre plasma boost boilers sempre nel formato fast fast e plasma boilers da pasturazione aroma e super spice un base mix evoluto potenziato dal plasma il miglior dolcificante rendono questa boilers migliora rischia la pasturazione sul mercato allora questo tipo di vediamo un attimo qui abbiamo una proteina al 34 per cento farina di mais ttx soia farina di semola farina di tonno in questo caso appetizzante in polvere dolcificante e plasma viene definita super spice e qui abbiamo la sua top boilers sempre plasma boost boilers boilers quindi ultra veloci anche perché nella filosofia di questo marchio c'è che non tutti magari abbiamo una settimana da stare in pesca piacerebbe a tutti stare una settimana in pesca ma la maggior parte delle persone hanno figli hanno famiglia hanno un lavoro fortunatamente e quindi si cerca di dedicare di ottimizzare i tempi quindi c'è chi ha due ore chi ha tre ore chi ha cinque ore chi ne ha dieci chi riesce a fare due giorni ma più la pallina è efficace e più risolviamo la situazione in maniera veloce e efficacemente e questo è sicuramente una filosofia che mi piace tantissimo sono quindi palline super attrattive ma allo stesso tempo che non stancano il pesce questo è importante da dirlo in fiera ne ho parlato con tanti di voi la differenza tra ci sono alcune palline che ti fanno la differenza la prima volta che le usi perché vai in pesca una volta fai dei risultati che ci sono palline eccezionali il problema qual è che poi hai bruciato la posta la seconda volta inizi a pasturare con quelle palline e dopo per mesi vedi che non prendi più nulla ecco lì vuol dire che hai usato delle palline che è di indubbia qualità il bello di prodotti del genere che vengono studiati da nutrizionisti animali da persone quindi che sanno come cibare come creare del cibo naturale o comunque del cibo e non uno strumento attrattivo ma del cibo per gli animali per in questo caso le carpe induce quindi la carpa a non stancarsi e soprattutto a continuare a mangiare anche dopo varie pasturazioni a lungo a lungo termine ci tengo a ricordarvi che la linea fast quindi questi questi sacconi qua non sono nati da innesco e sono nati per pasturare perché vi farò vedere in un prossimo video come la linea fast si sgretola in poco tempo perché nasce proprio per creare una nuvola per attrarre il pesce sul vostro innesco dove nel vostro innesco gli avrete messo una top quindi una pallina di queste qua queste ho avuto modo la serie top di utilizzarle anche in ambienti tipo questo dove ci sono tante brem tanto pesce di disturbo che tende a smangiucchiare la pallina e su queste non serve la classica pallina che dicono ma perché non fai lard così perché sono già palline molto molto dure fatte apposta cioè fatte apposta da stare sul lamo addirittura 48 ore basta vi sto facendo perdere tantissimo tempo ma non posso non farvi vedere questo che secondo me è un'altra super 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 novità e è questo sciroppo di salmone questo è proprio uno sciroppo se lo annusate è una roba micidiale allora come si utilizza questo strumentino qua non questo ha bisogno di essere utilizzato come un dip quindi non mettetelo sulla boi les direttamente così come fareste con gli slime ma la dovete lasciare per un po ecco questo lo dovete dovete mettere la boi les dentro il classico barattolino con questo liquidino in maniera tale che si inzuppa piano 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 perché così va a rilassiare pian piano questo 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 sciroppo che attira tantissimo naturalmente le nostre amate carpe vi dico non mettetelo su direttamente così perché tende a galleggiare e quindi vi ritroverete poi tutte le le carpe in alto mi raccontavano che è successo dove erano tutte a galla le carpe a cercare la roma questo aroma qua e la vostra esca si trova giù in fondo quindi mettetelo fate in modo che l'esca si impregni bene in maniera tale che poi dopo diventa una bella una bella arma una bella una bella un bel modo di pescare bene ragazzi vi ho raccontato un sacco di cose mi raccomando se siete appassionati di car fishing seguitemi su questo canale quindi iscrivetevi attivate la campanella così ogni venerdì alle 18 ci sarà un nuovo video e alla prossima ciao